Cari fratelli della provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise, cari sorelle Clarisse, Francescane e cari amici in tanti modi legati al francescanesimo in questa terra, pace e bene a tutti. Mi sono trovato oggi qui a San Giovanni Rotondo con i frati radunati a capitolo per cominciare con loro questo tempo di grazia. Nella nostra tradizione il capitolo è un tempo per ritrovarsi nel Signore e per mangiare insieme, cioè per fare fraternità e insieme guardare al futuro mentre verifichiamo il cammino fatto. Il tema di questo capitolo che è stato scelto dai fratelli è veramente francescano. Andate, andate per il mondo. L'ho ricordato stamattina a tutti i fratelli, la strada è il nostro luogo ordinario. Andare per il mondo ci mette in movimento, non ci fa rimanere fermi. Anche in queste terre di Puglia, perché Puglia e Molise hanno al loro interno tante terre, tante espressioni diverse, sicuramente è tempo di andare e di annunciare il Vangelo dentro culture e mentalità dei giovani, degli adulti, delle persone anche nuove che arrivano nei nostri territori, è ora di farlo ed è ora di farlo in modo rinnovato. E anche ora per i fratelli ho ricordato loro di camminare non solo qui nelle Puglie, ma di camminare insieme ai fratelli delle province vicine, d'Italia e sentendo il respiro di tutto l'ordine. Allora io auguro veramente di cuore ai frati in particolare radunati in capitolo e a quanti seguono questo evento perché camminate con noi, siete pellegrini con noi in queste terre, di fermarsi, di fare una buona verifica e di saper cogliere con un pizzico in più sempre di quella che noi riusciamo da soli, di audacia e di passione che cosa lo Spirito ci chiede per essere fratelli e minori in questo tempo e in queste terre, ripeto non dimenticando il grande respiro della Chiesa universale e dell'ordine che ci chiama sempre alla missione. Pace e bene e buon capitolo.